Nozze d'argento, ma con divorzio per Davide Labbrozzi, che lascia la FIOMCGL dopo 25 anni di militanza. Una decisione che sorprende i tanti, che leggono la notizia da un post sui social del segretario di missionario di Lanciano. Alla base della scelta, che non sembra indolore, ci sarebbero motivazioni personali. In questi mesi ho vissuto momenti complessi, scrive Labbrozzi. La mia sfera personale mi ha messo più volte a dura prova, ma ne sono uscito più forte di prima. Non sfugge, tuttavia, più attenti il grave problema di salute dei mesi scorsi, affrontato con una lunga degenza dopo il ricovero improvviso in ospedale. Ma Labbrozzi, nel suo commiato, non ne fa cenno specifico. Scrive invece di volersi costruire una nuova dimensione, con nuove energie. Tanti commenti di stima e apprezzamento che si susseguono al post del segretario di missionario, dagli iscritti alla FIOMC ad esponenti del mondo sindacale e della politica, tante le battaglie vissute in Val di Sangro, la zona industriale più importante d'Abruzzo, molte condivise con FIM, WILM e altre sigle sindacali. Tra le più recenti c'è l'avvertenza Honeywell, altre combattute separatamente, come in Sevel. E proprio nella fabbrica del Ducato, lo scorso anno, le RSA avevano contestato le scelte del loro segretario, in merito agli scioperi non proclamati per i recuperi, manifestando il disappunto con una lettera inviata ai vertici nazionali e regionali della FIOMC. Ma ad ottobre arrivò la conferma quasi unanime come capo della segreteria provinciale di Chieti. In queste ore, poi, la scelta di lasciare il secondo mandato quadriennale è la CGL. La soddisfazione più grande è stata la battaglia vinta alla Tales, dice Labrozzi, tracciando un bilancio sintetico degli ultimi anni al segretario FIOM. Resta invece l'amarezza per l'avvertenza Honeywell, che ha visto la delocalizzazione con licenziamento della fabbrica di turbo in Slovacchia.